La biotina, nota anche vitamina H, è una vitamina idrosolubile appartenente al gruppo delle vitamine B. La biotina svolge diverse funzioni importanti nel corpo umano, ed è essenziale per il corretto funzionamento di diverse reazioni enzimatiche coinvolte nel metabolismo degli zuccheri, delle proteine e dei grassi. Funzioni principali della biotina Metabolismo degli zuccheri e degli amminoacidi La biotina è coinvolta nella sintesi e nella degradazione degli zuccheri, così come nel metabolismo degli amminoacidi, che sono i costituenti fondamentali delle proteine. Sintesi di acidi grassi Contribuisce alla sintesi degli acidi grassi, che sono essenziali per la formazione di membrane cellulari e la produzione di energia. Pelle Unghie e capelli La biotina è spesso associata alla salute della pelle, delle unghie e dei capelli, anche se la ricerca scientifica sulla sua efficacia in questo contesto è limitata. Fonti alimentari di biotina La biotina è presente in diversi alimenti, tra cui, uova, soprattutto nel tuorlo, carne, carne rossa, pollo e pesce, frutta a guscio, noci, mandorle e nocciole, legumi, fagioli, lenticchie e piselli, verdure a foglia verde, spinaci e broccoli, cereali integrali, crusca di grano intero, cereali integrali, funghi, in particolare i funghi cotti. Integratori di biotina Gli integratori di biotina sono disponibili in diverse forme, tra cui compresse, capsule e complessi multivitaminici. Questi integratori sono spesso utilizzati per supportare la crescita di capelli, pelle e unghie, ma è importante notare che la ricerca scientifica sulla loro efficacia è ancora in corso e i risultati possono variare da persona a persona. È sempre consigliabile consultare un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi supplementazione, in particolare se si hanno condizioni di salute preesistenti o si stanno prendendo altri farmaci. Grazie a tutti!